Per Paolo Ferilli, proprietario di questo bellissimo centro di Cattolica, complimenti, prima tappa del circuito di crescita. Allora, intanto grazie del proprietario, ma non avendolo acquistato lo gestisco soltanto, quindi ad oggi essere proprietario sarebbe un onore. Comunque sì, è stata programmata nel mese di gennaio questa prima tappa, quando noi avevamo già l'inserimento ed aperto le iscrizioni e abbiamo più di 450 cavalli presenti e mi dispiace che la federazione ci abbia bloccato il programma perché sicuramente ne avremmo potuti fare sopra i 550 cavalli. Quindi mi dispiace per quei partecipanti al circuito di crescita che non sono riusciti a iscriversi. Per cui una parte delle iscrizioni era già coperte dai soliti ragazzi che vengono sempre qua? Assolutamente, noi il concorso era già aperto e abbiamo fatto l'inserimento nel programma della crescita tecnica e l'unico grande mio dispiacere è che avremmo potuto fare oltre 500 cavalli e sarebbe stato un evento veramente importante. Cosa pensi di questo circuito di crescita? Io ho visto il programma che ci è stato approvato, ha qualche piccola variazione rispetto al nostro, però mi fa piacere vedere che il programma di crescita tecnica ricalca un po' quello che è il programma che io faccio da anni, che già sono due anni, che io ho inserito la 150, la gara al Gran Premio da 150, la 145, il piccolo Gran Premio qui è da 145, oggi invece ce l'hanno portato a 140, però voglio dire che fa piacere che comunque alcuni programmi per la crescita che noi abbiamo fatto per il settore in Italia, quindi Best Rider brevetti, quindi la possibilità di far crescere i brevetti nella 115, quindi fare il Gran Premio nella 115, il Gran Premio della 125 e 130 riservato ai primi gradi e due Gran Premi per avere più ranking nella 145 e 150, questo sia stato in parte copiato o comunque valutato positivamente dalla federazione. Tu sei uomo di cavalli, cosa ne pensi di una preparazione così anticipata? Beh, voglio dire innanzitutto se uno è pronto è pronto, io non vedo preparazioni anticipate o posticipate, sicuramente le prime tappe sono indoor e quindi ricalcono quello che è il momento e la preparazione che è già da ottobre che ormai si salta indoor, quindi anticipata per cosa non lo vedo, in più se sono i binomi di secondo grado o io non so bene come funziona però comunque se sono brevetti saltano da ottobre in indoor, se sono primo grado saltano da ottobre in indoor, se sono secondi gradi comunque saltano tutti da ottobre in indoor, quindi non vedo anticipata, non vedo tempi, non è un giovane cavallo che può essere all'inizio della preparazione o le gare anticipate rispetto all'età o le altezze, oggi siamo su binomi che dovrebbero essere consolidati altrimenti non sarebbe una valutazione da binomi di attenzione federale. Lo dice l'anticipata perché abbiamo un campionato italiano ad aprile e un campionato europeo a fine luglio. Sì, però non credo che questo progetto di crescita tecnica sia di valutazione per una gara che dovrà essere outdoor e questo è un indoor, credo che il progetto sia, credo perché io oggi sentiremo il Presidente, credo che il progetto sia di creare un percorso con gli impianti migliori, con i direttori di campo migliori, con delle altezze programmate per valutare e fare una crescita proprio dal punto di vista formativo o seguito dalla federazione, almeno penso che questo sia lo scopo. Per cui pensi che non sia questo una gara, una formula che ha preso il posto del test event? Ho visto che i test event sono stati cancellati, però non credo che sia questo al posto del test event, almeno a me, io non credo che questo sia il posto del test event, anche perché chiedo scusa, altrimenti per essere un test event dovrebbe avere categorie riservate a qualcuno. Qui tutti si possono iscrivere, quindi non credo che qui, non è una gara riservata a qualcuno. È un concorso nazionale nostro dove ci sono i concorrenti, che normalmente noi facciamo 300, 350, 400 concorrenti, più i potenziali interessati al circuito di crescita, però insomma grossomodo sono i binomi che noi normalmente abbiamo, che utilizzano e che frequentano l'impianto. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.